Iniziamo la carellata di queste opere d'arte che sono esposte all'interno del Hotel Universo di Fiuggi, partendo dall'opera di un maestro della pittura a livello non soltanto nazionale ma a livello internazionale che corrisponde al nome del maestro Ezio Farinelli. Ci troviamo di fronte a un'opera figurativa, splendida opera figurativa, che prende le mosse da un grandissimo maestro venuto meno un secolo fa che è il Giovanni Boldini. Questa opera è un'opera elaborata ad olio e come vedete ha tutte le sembianze delle nobile donne della Belle Epoque. Lui l'ha interpretata naturalmente con un tema contemporaneo, è chiaro che non poteva fare riferimento a qualcosa che era figlia della Belle Epoque. È un'opera di grande pregio del maestro Farinelli che ha ritenuto di dover esporre qui in questo incontro propedeutico alla terza edizione dell'Expo di Fiuggi che avverrà dal 13 al 23 di giugno. Buonasera, sono Pina Di Tano. Non so come potrei nominarmi se un artista dell'inconscio o del surreale o del sociale. I miei quadri non sono altro che una ricerca dell'interiore di ognuno di noi, quindi penetrare nell'intimo, nell'anima di ognuno di noi. Noi siamo fatti come logica nel cervello, ma nell'animo il cuore che cosa dà? Emozioni. E nei miei quadri non sono altro che una trasposizione delle emozioni che l'individuo ha dentro. Possono sembrare emozioni belle, dolorose, le emozioni sono diverse, non sono tutte uguali. Per cui a ognuno sta a scoprire se stesso in queste opere. Queste opere di Pina Di Tano sono delle opere molto particolari. Lei parlava di interiorità e è proprio così. Fra l'altro ha un'importante caratterizzazione. Nelle opere d'arte, io parlo di opere d'arte, non parlo di quadri o di dipinti, che i quadri e dipinti si fermano all'aspetto esteriore, al bello. Mentre le opere d'arte dicono, trasferiscono alla persona che è davanti, che ha un minimo di sensibilità, quello che trova di se stesso. È come uno specchio in cui si riverbera se stesso. E questa opera fa molto pensare. Lei ha parlato di interiorità. Io l'ho letta nello stesso modo. Interiorità fa l'altro questa persona che c'è, che non c'è. Questa volontà di uscire da se stessi, addirittura se vedete in questa opera questa orecchia che è stata un'altra parte. È come uscire dalla propria dimensione e andare a cercare una dimensione che non è necessariamente la propria, ma quella dell'altro. In questa casa è la visualizzazione oppure il sentire anche di chi sta guardando quell'opera d'arte. Ovvero si può trovare moltissimo in queste opere. Questo ha un'impostazione che si muove molto più fra l'astratto e l'informale. Questa si avvicina un po' di più al figurativo. Però sono opere che hanno, ripeto, un termine che secondo me è fondamentale. Sono delle opere che dicono, non raccontano. L'artista Bocanzi, nel presentare le sue opere, ha fatto un parallelo con la musica. È un parallelo che migliore non poteva essere, perché dicevo Bocanzi, fuori dalla registrazione, che le due discipline più antiche sono appunto la musica e la pittura, dai geloglifici, dai primordi del mondo. Che d'arte sono improntate alle donne è più che evidente. Vedete questa donna, concedetemi il termine di double fase, in cui c'è una parte in sé molto più solare, una parte un po' più scura che tende a essere un po' più interiore, a seguire quell'aspetto più interiore di se stesso. Mentre questa qui è un po' più solare, un po' più aperta, in qualche modo in discontinuità con quella precedente. Sono opere, ripeto, molto interessanti e sarà molto bello visualizzarle anche nella terza edizione dell'Expo di Fiugi. Salve, io sono Stefania Loisi, ho realizzato quest'opera e questo è uno scorcio del paese dove vivo, in provincia di Viterbo. Mi piace perché ci sono queste case particolarissime, sono delle palazzine però di epoca antica e sono rimasta affascinata e le ho realizzate a modo mio, con i miei colori, eccetera. Non ho fatto studi artistici, per sfortuna, perché avrei tanto desiderato, però a tarda età adesso mi sto mettendo a disegnare e a dipingere, insomma. Questa è un'opera figurativa di Stefania Loisi, come vedete è molto interessante. Perché è interessante quest'opera? Lei ha fissato una parte di Viterbo, come ha detto Pocanzi, ma questa conformazione, questo luogo, per chi non è di Viterbo e chi non conosce Viterbo, porta alla memoria dei luoghi dell'infanzia, perché sono delle strutture che non sono nate oggi, naturalmente avranno, se non hanno un secolo poco ci manca, e allora queste opere così elaborate, figurative, ovvero il figurativo è il modo di dipingere più antico in assoluto, più antico in assoluto, viene dai primordi del mondo e c'è il figurativo. Poi, all'inizio dello scorso secolo, con la nascita della macchina fotografica, il figurativo, non dico che ha perso valore, ha cambiato l'approccio, perché una macchina fotografica, se vuole riprodurre un certo luogo, è chiaro che lo fa immediatamente, ma lo fa senza anima, nel senso che non c'è dentro il costrutto della persona che ha visto quei luoghi. Allora, queste opere figurative hanno anche una loro funzione, non soltanto di fermarsi all'aspetto esteriore, ma muovere dentro nella nostra anima anche il nostro vissuto, il vissuto in un territorio che spessissimo è simile, a volte io mi trovo in certi paesi e sembra di che lo scegli già, invece in quel paese non ci sono mai andato, ma siccome molti luoghi si somigliano, allora noi troviamo nel nostro vissuto, nella nostra memoria, anche qualcosa che noi non abbiamo mai visto, ma che abbiamo poi sostanzialmente visto. Grazie. Buonasera, sono Diana Vagliani, questa è una mia opera, si chiama Sfumature di colore. In quest'opera io volevo catturare praticamente tutte le sfumature che potrebbe avere una donna, in quanto le donne hanno tante sfumature dentro di sé e piano piano possono scoprirle e quindi dipingerle su se stesse. E quest'opera è il tentativo di catturare proprio questa cosa. Quindi ho usato diversi colori in diversi punti e ci sono anche parti più scure proprio perché ogni donna ha un proprio vissuto anche più scuro. Quest'altra opera invece è un cervo fatto in acquerello con matite acquerellate ed è un'opera di per sé molto figurativa. Questa opera di Diana è molto interessante, a me piace molto. Intanto piace molto al di là dell'uso dei colori che ha fatto, che sono un mix importante fra colori caldi e colori freddi. Vedete come si muovono. Ma l'impostazione, una cosa particolare che ha questo volto, è un volto che fra il pensieroso e l'impaurito, questi occhi sgranati che guardano verso il mondo, guardano verso un mondo che non è circoscritto al globo, ma va oltre. E ha questa grande forza espressiva. Ed essendo una giovane artista, credo che sta veramente su una buona strada per poter fare un percorso lungo anche lei, in quanto donna, sente molto l'aspetto femminile e lo ha riprodotto qui. E col collegamento con la natura, a me ha fatto pensare anche questi colori che muovono in un certo modo al contatto con la natura. E me lo ha confermato questo cervo da questa opera, guardare come si muove, guardare che differenza che c'è. Ovvero la sensibilità, a dimostrazione, la sensibilità di quest'artista, per quanto giovane, è polietrica. Non si ferma soltanto a un'impostazione tipo quella precedente, ma guardare come si muove in questo modo, è come questo cervo ci guarda ed è una caratterizzazione, non sono blasfemo nel dire una cosa di questo genere, se voi andate a vedere la gioconda, vedete che la gioconda quando voi gli passate avanti vi segue con lo sguardo. Questo cervo se io cammino mi segue con lo sguardo. Allora, è una caratterizzazione particolare di chi ha un approccio, per quanto giovane, alla pittura già consolidata, ovvero ha già dentro di sé i principali connotazioni per dover fare un passo avanti ulteriore da un punto di vista di tecnica e di espressività di quello che dice. Sono l'artista Angelo Salvatore e sono l'autore di queste opere qua. Questa è una pittura dinamica che rappresenta il movimento dell'occhio, quel che io voglio rappresentare con questa pittura qua. Ecco, non so, più di questo, sono un autodidatta, non è che vengo da una scuola e più di questo non posso. Grazie. Una caratteristica particolare di Angelo Salvatore è proprio questo fissare sulla tela dei momenti fugaci della nostra vita. Un passaggio di persone, è come se quel passaggio di persone non avesse tempo. Lui è riuscito quella frazione di seconda a doverla fissare, è come se quel tempo si fosse fermato, è come il percorso di vita che poteva diventare anonimo, senza nessuna importanza, è diventato un'opera d'arte. E questa è una peculiarità molto importante ed è una sua specifica caratterizzazione. Tutte le sue opere mettono in moto, ovvero mettono in moto, mi fa proprio pensare che mettono in moto questa sadicità della frazione di secondo in cui ha visualizzato quel fatto che è avvenuto in quel momento. È come un flash sul mondo che se no era fugace e se no andava via. Lui è riuscito a fissarla e a farla diventare opera d'arte. È una peculiarità importantissima, secondo me. Sono Domenico Bizzarro e in questa mostra ho portato tre tavole, diciamo estratte dal mio libro che è in prossima pubblicazione di poesie e fumetti, l'ho così intitolato, messaggi d'amore. È formato da 41 tavole fatte a penna o a pennarello che rappresentano ritratti di torne e sono legati, ognuno ha una poesia o una parola, un messaggio. Per fare un esempio, questa è angelica e sono due parole. Sei entrata nella mia vita come un ciclone, ne sei uscita evaporando e così via. E quindi, diciamo, il libro sta per uscire, questa è la copertina, questa è la quarta di copertina e quindi io farò una presentazione del libro con tutte le 41 tavole, le presenterò. Saranno opere uniche che non saranno riproducibili perché ho deciso di non fare litografie e quindi si tratta di opere uniche legate al libro. Domenico Bizzarro, ecco le opere che sono esposte, le opere al femminile, pochi anni lui ha fatto una presentazione rispetto alle quali io posso aggiungere pochissimo. Intanto è un percorso pittorico particolare, lui ha parlato di pennarello, ha parlato di... ed è un modo di espressività. Come avete visto, anche nelle opere che abbiamo visto in precedenza, ognuno ha la sua peculiarità, ognuno ha un linguaggio artistico diverso e ognuno parte naturalmente anche dall'esperienza di lavoro che ha. Quando non è soltanto artista e viene da... io so anche il lavoro che fa Domenico Bizzarro, ha anche questa rigidità nel senso ottimo del termine che fa riferimento appunto al lavoro suo che è un avvocato. Di conseguenza queste opere in qualche modo rappresentano anche quella dimensione. Il fatto che sia legato al femminile, mi pare che quasi tutte le opere, anche dei più grandi a livello planetario, che hanno cominciato a dipingere ai primi ordini del mondo, la donna sarà quasi sempre presente, addirittura nelle opere astratte o nell'informale. E lui non sfugge a questa teoria, non a questa teoria, a questa pratica, non soltanto a questa teoria. E poi avrò il piacere probabilmente di presentare anche il suo libro, se mi sarà concesso. Questa è un'opera d'arte della maestra artista Domenica Luppino, una mia amica Mimma, che ha fatto un'opera straordinaria secondo me. Un'opera che anche in questo caso, con questo diapason che la attraversa, che la si staglia sotto, in qualche modo fa riferimento alle due discipline artistiche e di cui parlavo poc'anzi, che sono le discipline artistiche, pittoriche e della musica. È un'opera che è in continuo movimento, è un nutrimento per l'animo, un'emozione straordinaria. E lei, che sta crescendo in maniera esponenziale, opera dopo opera, ha portato a termine questa splendida opera d'arte. Ora mi avvicino a un'altra opera di un'altra artista, di Loretta Antoni, che ha una sensibilità straordinaria, anche se è una rierabolazione di un'opera d'arte già precedente, fa riferimento addirittura a Leonardo La Vinci. Ecco, questa opera l'ha attualizzata, con i scolori e con i movimenti di colori, come vedete, che lavorano fra i colori caldi e i colori freddi, è riuscito a mettere in moto, a dare una nuova veste, una nuova forma a questa opera. Ricordo che anche grandissimi come Pablo Picasso hanno preso a riferimento delle opere di altri grandi artisti per doverle poi rierabolare. Non è un furto, anche perché l'arte nasce dall'arte e di conseguenza spesso capita che anche i più grandi prendano spunto da altri artisti che l'hanno anticipato. Questa opera che stiamo vedendo di questa Roma, molto attualizzata da parte dell'artista Salvatore Peritore, vedete il cupolone, come lo chiamiamo noi a Roma, come si muove, guardate questo cielo che ha un dinamismo straordinario e come è elaborato, ovvero lui è riuscito in questa opera non così grande a dover mettere le eccellenze di questa grande città, mettendo al centro oltre che il cupolone, il colosseo e tutte le bellezze di questa città che ci invidia tutto quanto il mondo. Ecco, lui è riuscito a farla diventare, invece di fare una fotografia, ha fatto un'opera d'arte e come vedete è un'opera d'arte dinamica, specialmente con quel cielo che non si ferma mai. Salve, sono Franca Buonaiuti, questa è una mia opera, è una tela, è dipinta con acrilici, è intitolata al di qua della soglia, l'ho intitolata al di qua della soglia perché rappresenta la nostra realtà e un po' io veramente l'ho dipinto secondo il mio stato d'animo, ho passato un anno molto brutto sotto tanti aspetti di malattia, ma anche come va la vita così, un po' negativa sotto tanti aspetti, viviamo le guerre, le morti, non è che io voglio essere pessimista, anzi, c'è una luce che contrasta tutto questo proprio perché è la speranza, ho messo tutte le persone a testa in giù perché noi siamo tutti esuberanti, superbi, mentre diciamo che nell'aldilà, più o meno perché io sono credente, l'ho messi tutti a testa in giù, quindi rappresenta che non siamo più così superbi, diciamo, no? Ecco tutto qua, poi ognuno, però ecco voglio sottolineare questa speranza che è altrettanto, cioè alla pari con tutta questa distruzione, diciamo. Come sempre dico, le opere d'arte hanno una loro caratterizzazione, chi le legge necessariamente non trova quello che l'artista ha voluto dipingere, ne dà un'interpretazione soggettiva. Io questo io l'avrei chiamato monito, parliamo delle cose che diceva poc'anzi l'artista, è un monito per quello che sta succedendo nel mondo, io lei l'ha visto come una speranza, io invece l'ho visto come qualcosa di drammatico, perché ogni giorno sentiamo dire in queste guerre che ci sono, sono in corso, purtroppo, che ha, al momento opportuno potremmo utilizzare anche l'atomica, con quello che succede, ecco. Io la leggo invece questa, ripeto, non è un quadro, è un dipinto, proprio perché dice, mi è un'opera d'arte, ci sta saltenendo un monito per dirci attenzione, non andate oltre quel confine. Nel 1939 Einstein disse a Roosevelt, fermiamoci, perché l'atomica potrà essere la distruzione del mondo. Ecco, questa opera mi sembra che prenda le mosse, al di là di quello che voleva, del modo in cui ha trasferito sulla tela Franca, è un monito verso noi, che non siamo più giovanissimi, ma è un segnale che lei dà verso le nuove generazioni. Questa è un'opera che io ho già letto a giugno, ed è, ripeto, è un'opera di grande interesse, di grande impronta. E io, ripeto, ribadisco, un monito verso il futuro. Salve, praticamente sono qui perché ci tengo, insomma, a portare avanti l'arte di mio papà, che è il pittore Alto Campanella, e che nel tempo lui ha fatto anche parecchie mostre. Qui abbiamo un soggetto di Palermo, la Fontana Pretoria, eseguito in pontilismo. Purtroppo papà è venuto a mancare, quindi negli anni a me fa piacere ogni tanto ricordarlo. Ecco, questa è un'opera dell'artista Campanella, Pocanzi l'ha presentata in maniera greggia la figlia, che lo porta in giro, ovvero far sì che queste sue opere, in qualche modo, rimangano, è come se il suo genitore fosse ancora presente. E queste opere hanno questa funzione. Intanto non si fermano al bello, e questa immagine, come spiegava Pocanzi, la figlia dell'artista, riproduce una parte di Palermo. Ma Pocanzi dicevo, fuori dalla registrazione, che questa caratterizzazione, questa impronta, queste immagini che sono tipiche italiane, e lo si trovano, queste scalinate, queste fontane, li si ritrovano in quasi tutte le città di Roma, e anche nei paesi. E sono delle caratterizzazioni molto importanti, e sono tipicamente italiane. E ma in me poi, questo modo, questo lavoro serigrafico che è stato fatto, mi ha fatto pensare immediatamente ai 60 acquarelli che fece a Roma, nel grandissimo Rosle France, in cui ha riprodotto Roma Sparita. Qui non si riproduce Roma Sparita, perché questo qui è una Palermo già preesistente, ma il modo, quasi come se fosse un sogno, vedere questa parte puntinata, come sembra in qualche modo che si allontana, è quasi più un pensiero, che un fatto effettivo, è come se lui l'avesse dipinto, non stando davanti a quell'immagine, ma lo ha dipinto, avendo quell'immagine dentro di sé, e l'ha riprodotta, l'ha riprodotta in questo modo qua. Qui noi ci troviamo di fronte a questa serigrafia, 90 su 100, di conseguenza anche questa caratterizzazione, e sicuramente le certificazioni, che da dietro ha anche un valore artistico, e economico, non di poco conto. Sono delle opere che lasciano un'impronta straordinaria, anche soltanto a quelli che Palermo non o l'anno mai vista.